Ciao, io sono Leonardo Buonaterra, lui è Cristiano Damiano, oggi siamo qui al Buscadero e faremo ascoltare un po' le nostre canzoni, cercheremo di far entrare le persone in i nostri mondi e adesso stiamo lavorando al nuovo CD che è ancora in fase di studio e siamo felici di essere qui al Buscadero. Ci sono un po' di suoni a spese, un po' di six particolari, un po' anche arrangiamento nuovo. Intanto vi salutiamo e ringraziamo tutti i ragazzi che hanno speso le loro forze per organizzare questo bellissimo trefuro.